Il tralcio unito alla vita produce frutti meravigliosi. Papa Francesco ripercorre il brano evangelico dell'ultima cena, nel quale Gesù consegna ai discepoli questa importante verità. Il Signore è la vita, attraverso di Lui come la linfa nell'albero, afferma il Pontefice, passa ai tralci l'amore stesso di Dio, lo Spirito Santo. Da soli dunque non si è nulla, si rischia invece di essere dannosi per la comunità. I cristiani nel battesimo hanno trovato il dono della vita nuova, possono restare in comunione con Cristo, crescendo l'intimità con Lui mediante la preghiera, l'ascolto, la parola, la partecipazione ai sacramenti. Tutta la nostra persona, afferma il Papa, viene trasformata dalla grazia dello Spirito, anima, intelligenza, volontà, affetti e anche il corpo. Bisogna dunque essere tralci vivi, coerenti con la fede. Riceviamo un nuovo modo di essere. La vita di Cristo diventa anche nostra. Possiamo pensare come Lui, agire come Lui, vedere il mondo e le cose con gli occhi di Gesù. Di conseguenza, possiamo amare i nostri fratelli a partire dai più poveri e i sofferenti, come Lui l'ha fatto, e amarli con il suo cuore e portarli così nel mondo, frutti di bontà, di carità e di pace. Dopo il Regino Celi, il Papa ha ricordato la beatificazione a Torino dell'umile e generoso discepolo Luigi Bordino ed ha salutato l'associazione Metera nella giornata dei bambini vittime della violenza. Tutti ha affermato, dobbiamo impegnarci affinché ogni persona umana, specialmente i bambini, sia sempre difesa e protetta.